Rocco, un uomo grande in tutti i sensi. Se c'è uno dei personaggi che effettivamente parlando ha fatto la storia del porno e dell'Eros, quello è il grande Rocco. Grande in tutti i sensi, non solo in quello sessuale, ma grande anche di animo. Ecco, in Rocco non c'è solo una grande intelligenza, non c'è solo un grande carisma, non c'è solo un grande attributo intimo, ma c'è anche una grande voglia di rilanciare la sua persona e soprattutto una grande, grandissima capacità di parlare. Perché Rocco non è solo un pisello e basta, così mi sento di dire ironicamente parlando, perché Rocco non è solo un pene grosso, perché Rocco non è solo un corpo che produce, o meglio che sa trasmettere emozioni alle diverse attrici a luci rosse, perché Rocco è anche un uomo che davvero possiamo considerare unico nel suo genere. Perché? Perché lui è nato da nulla, ha iniziato a farsi strada, è diventato famoso col passare del tempo, arrivando a risultati importanti, tanto che in tutto il mondo, in tutto il nostro pianeta, Rocco non è una voce fuori dal coro, non è un nome buttato là. Rocco Sifredi è un nome e un cognome che ha un peso etico-morale, un peso soprattutto per chi lo conosce. Ecco, sul web ha un canale su YouTube, ha fatto qualche live, l'ho vista, ho avuto il piacere di vederla, mi è piaciuta non poco, e lui parla sì di cose erotiche, però non lo fa in maniera sgraziata, lo fa in maniera curata, in maniera dolce, in maniera zuccherata, edulcorata, senza essere cattivo, volgare e o schifosamente borghese. Ecco, questo mi piace di lui. Oltre a tutto questo, è anche un uomo che dal punto di vista cinematografico ha fatto tanto. pellicole e via di seguito, senza ovviamente dimenticare la capacità che ha nel modo di, ripeto, disquisire. Disquisire come lui non è da tutti, il potere di una disquisizione come la sua, secondo me, è tutto. E poi il carisma, il modo di comunicare, ha un carisma, ha un modo di essere piacevole, divertente, garbato. Ma senza essere mai volgare. Lui, probabilmente ho sentito uscire da quella bocca parolacce. Si è sempre messo nella condizione di essere elegante, fine. Eppure potrebbe dire, no, cazzo, figa, eccetera, eccetera. Invece no. Ha sempre utilizzato un comportamento provo. E non si è mai permesso di andare a pestare il piede qualcuno, oppure di andare a parlare mai di qualcuno, per quel che mi riguarda e per quel che ho visto nel web. Poi vabbè, nella vita reale non lo conosco, non lo conoscerò mai, però. So che il suo modo di essere, il suo modo di fare, penso che sia anche quello che vediamo dal virtuale al reale. Detto questo, Rocco è un uomo da stimare, da appressare, si è costruito da solo e ha avuto la grande bravura e il talento di mettersi in gioco e di buttarsi nel mondo dell'hard. E parlo del porno. Il porno che però a me non piace come genere perché si tratta delle sempre solite cose che possiamo vedere, dei soliti urletti, delle solite penetrazioni, non c'è una storia, preferisco tra il porno e l'hard, preferisco sicuramente, e l'erotico, preferisco sicuramente il genere erotico. Da Leandro è tutto, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, un saluto caro e al prossimo video. Grazie a tutti.